Incontro questa mattina qui in piazza della regione tra il sindaco Nino Naso e le associazioni sportive. Si discute per risolvere quel problema che riguarda proprio gli impianti, le strutture da poter dare a disposizione delle associazioni sportive. Sono tre le palestre scolastiche che possono essere utilizzate, non tutti i giorni e non per gli interi orari pomeridiani. Questo non soddisfa le associazioni che chiedevano, che avevano la speranza di poter ottenere qualcosa di più. Comunque c'è un punto di partenza importante che è quello che le associazioni finalmente per la prima volta sono riuscite a costituirsi in comitato diventando dunque una forza. Il loro obiettivo, dopo aver detto che sono soddisfatti solo parzialmente, è quello di riuscire ad ottenere oggi un regolamento che possa predisporre l'utilizzo delle palestre scolastiche per un intero anno. Si dice invece soddisfatto il sindaco Nino Naso per questo traguardo ottenuto. e intanto domani pomeriggio ci sarà, domani sera ci sarà a Palazzalessi un consiglio comunale straordinario aperto alle associazioni sportive, questo consiglio comunale che era già stato richiesto e fissato nelle scorse settimane quando a Palazzalessi si era tenuta appunto una riunione e a richiederlo erano stati diversi consiglieri di opposizione tra loro e Alfredo Sciac che è il presidente della commissione sport. Sindaco, oggi si è fatto questo incontro con le associazioni sportive, la vicenda che si era aperta nei mesi scorsi si chiude e ci sono alcune palestre che sono disponibili? Tutte le palestre agibili delle scuole sono state messe a disposizione delle associazioni, quindi del comune devo ringraziare i presidi per questo, devo ringraziare le associazioni sportive, devo ringraziare il nostro consulente di Norsino ma tutto l'ufficio da Zingala all'architetto Caruso per la disponibilità che c'è stata vedete con il dialogo si riesce a dare un servizio serio alla nostra comunità si parla di sport, si parla dei nostri ragazzini, si parla di avere degli spazi per poter fare lo sport che oltre ad un'attività sportiva diventa anche un'attività sociale le scuole hanno dato la propria disponibilità, c'è un protocollo che fermiamo tutti insieme, comune, scuole e associazioni quindi in sicurezza, noi già l'abbiamo sperimentato nel nostro palazzetto dello sport gestito benissimo con le associazioni dove non c'è stato un positivo durante l'attività dove c'era maggiore criticità e lo stesso sarà ripetuto anche nelle polesse scolastiche alla fine vedete che poi i paternesi, e io mi sento paternesi alla testa di piedi riescono a ragionare e trovare le soluzioni col dialogo così come è stato Senta, con la città metropolitana invece si è avviato un dialogo, c'è anche lì possibilità di ottenere un risultato? Ci incontreremo settimana prossima, ci eravamo sentiti telefonicamente con il sindaco della città metropolitana con l'onorevole Pogliese, se troveremo altre disponibilità saranno altre palestre che saranno a disposizione delle nostre associazioni intanto con queste pare che quantomeno le criticità riusciamo a risolvere specialmente per le recazioni più piccole che erano ferme avranno la possibilità di attivarsi con lo sport specialmente lo dico in una maniera forte in questo momento dove usciamo fuori da una pandemia e c'è bisogno di attività, di speranza e lo sport è importante C'è stata oggi questa riunione con l'amministrazione comunale palestre scolastiche disponibili, non tutte come vi sentite? Soddisfatti oppure no? Ci sentiamo soddisfatti al 20% perché di quello che abbiamo avuto di quello che chiedevamo e quello che abbiamo ottenuto abbiamo ottenuto solo il 60% perché non so se voi lo sapete all'Ado Milani, che è una scuola che si può paragonare al Palazzetto abbiamo avuto il lunedì, il venerdì e il sabato dalle 19 alle 22 in Via Libertà la usiamo tutta la Marconi il martedì e il sabato dalle 14 in poi quindi i problemi che abbiamo tutte le società sono abbastanza perché non stiamo facendo più lo sport da oratorio dove facevamo una prima squadra poi facciamo un giovanile tanto per far giocare i ragazzi ma oggi abbiamo dei campionati che ci vengono obbligati io che ho un settore maschile e un settore femminile devo fare obbligatoriamente due campionati giovanili maschili e due femminili così il basket, così la pallavolo, la pallavolo accademia per non dire il battimento perché anche loro hanno dei problemi quindi siamo tranquilli perché abbiamo qualcosa in più di quello che avevamo un mese fa ma non è quello che speravamo e per cui ci siamo battuti grazie